Ehi ragazzi mettetevi la sveglia perché martedì 4 dalle ore 21 torniamo in live sul canale viola con WWE E con noi ci sarà il mitico Martin Castro Giovanni Sarà una serata top tra Royal Rumble, War Games, Sosy Man Non potete mancare Salve a tutti ragazzi e bentornati mai in Shoshua Siamo tornati con Miss Spettacolo Con la maglia azzurra Con la maglia della nostra nazionale E ci serve a noi reteghi Ci servano i scamacca Sì ci servirebbe sì Ma noi gli attaccanti almeno nel gioco ce li abbiamo E sono Mike Spettacolo e Ciro Che devono ribaltare un angusto pronostico Una partita importantissima Ci aspetta perché Italia-Francia Il derby d'Europa La partita che sentiamo di più E è per la qualificazione agli europei Allora l'obiettivo di Miss Spettacolo lo conoscete È diventare il più grande di sempre Ma abbiamo anche degli obiettivi per il club o la nazionale per cui giochiamo Perché non è solo una cosa personale È anche una cosa collettiva Ecco quello con l'Italia è di qualificarsi almeno a qualcosa Qualificarsi non dico vincere Qualificarsi E siamo in una condizione di non farlo Questa è la classifica attualmente Cioè la Norvegia che ci ha spanicciato Nella partita d'esordio di Spettacolo È a 16 punti Lei sta praticamente già col biglietto europeo Poi ci siamo noi e la Francia Con 11 punti Ma abbiamo una partita in più È fondamentale vincere oggi E sperare di mantenere la Francia dietro Il resto è Repubblica cieca Ucraina Guarda l'Ucraina Ha pure dato del filo da torcere Nell'ultima puntata Solo 3 a 5 per noi Stesso risultato con cui abbiamo perso con la Norvegia Cioè noi Guarda prima di noi Repubblica cieca Italia 1 a 1 Ma non è vergognoso Prima Francia Italia 0 a 0 Però ragazzi Mancano ancora un po' di ore Prima della fine del calciomercato Scopriremo se la Lazio e il direttore sportivo Riusciranno a portare qualcuno alla causa Visto che l'altro obiettivo Quello che abbiamo con il club È quello di far rinascere questa squadra Che è un po' pulsolente Però abbiamo comprato Danjuma Che può agire sia come punta Non credo proprio Che come esterno Abbiamo anche Dia che non giocherà mai Perché gioco io Però non si sa ragazzi Non si sa L'unica cosa che si sa È che abbiamo venduto Ciro Immobile E ho scoperto che è andato allo United Voi continuate a supportare al grande questa serie Con un bel mi piace Grazie a tutti E se non lasci mi piace Adesso a questo video La tua squadra perderà Stiamo attenti Stiamo attenti Dai Raspatori a Lille Moseken al Milan Kupmeiners a Ren Mukhtar alla Juve Ma ci ho potuto andare io alla Juve Qua ragazzi stanno per succedere cose Espino al Monaco Ma ce lo siamo appena comprato Direttore 40 milioni Giacomino Raspatori A Lille Ci siamo veramente venduti Espino dopo essercelo comprato ragazzi Divento pazzo eh Ho letto i vostri commenti Tutti sì Mike Nella mia carriera È successo questo Nella mia carriera Abbiamo comprato quell'altro Nella mia carriera Ragazzi Nella mia carriera La Lazio più scarsa di sempre È un peccato perché Bene o male Io ripeto Con la Urbe Con il Palermo C'è sempre uno squadrone Guarda l'Empoli Compra Mancano solo un paio di ore Alla fine del mercato Non c'è arrivata neanche un'offerta Vedete ma com'è possibile È possibilissimo ragazzi Perché guardate Le nostre richieste Sono state tutte respinte Da Maurizio Sa E beh giustamente Gli hanno venduto tutti Uno bono Gli può rimanere Ok ragazzi Calcio mercato terminato Speriamo che il nostro direttore Non abbia fatto casini Andiamo a vedere Oh Ma come no Ragazzi Ha venduto Luis Alberto No raga dai Non si potremmo presentare Qua qua No con Tom Abbasic Dai Che è scarso Quanto No raga Non c'è torno Io non torno Io non torno Dalla nazionale Ma come cazzo si fa ragazzi Cioè ce ne abbiamo tre boni L'ha venduto di tutti Capite ragazzi Questi vogliono essere Rascinati Ma poi Chi me la passa la palla Ci siamo E' Italia Francia Difficoltà estrema Guardate loro Guardate loro Guardate che attacco E' spettacolo contro un bappè Eccoli i tifosi dell'Italia Sotto la pioggia Non vogliono lasciare solo la squadra Nel momento del bisogno Piove sul bagnato C'è la tempesta In Italia Dove il clima solitamente è mite Ma oggi tutto E' contro I uomini I mancini Che devono per forza Ottenere una vittoria O un risultato positivo Perché la Francia E' a pari punti Ma Con una partita in meno Non possiamo non qualificarci Per gli europei Siamo campioni in carica E il mister Si affida Sulle spalle Di quell'uomo lì Italia Francia Una delle partite Più attese In Europa E' stata anche Una finale Del mondiale Nel 2006 Quel giorno Vinse l'Italia E c'era in campo Del Piero Che viene omaggiato Dai tifosi italiani C'è l'inno Della Francia Che non ci interessa Vogliamo vedere però Qual è la formazione Della Francia Le inquadrature Per le nazionali Sono orribili Sono orribili Da anni e anni Non ci dobbiamo neanche più stupire Però l'Italia Nel debutto Di spettacolo Ha preso un'imbarcata Una sveglia Dalla Norvegia Che ha fatto male Soprattutto bisogna evitare L'Italia che però Oggi si schiera Con una formazione Ultra offensiva Con Toloi Capitano Bastoni Mancini Mamma mia scappate Barella Tonali Verratti Berardi Chiesa Ai lati Di Miss Spettacolo E Ciro Immobile L'attacco che poteva essere Quello della Lazio Però purtroppo non è stato Ciro Immobile Che è attualmente L'attaccante principe Del Manchester United Non sappiamo Dove sono finiti Gli altri giocatori Della Lazio Che sono andati Un po' in diaspora Tipo Patrick Ma anche lo stesso Luis Alberto Venduto Nell'ultimo giorno Del mercato La Francia È una squadra Clamorosa Andiamola a leggere Con Minioni in porta Benji Pavar Kunde Saliba Hernandez Engolo Cante Pogba Chouameni Mamma mia Attacco Dembele Mbappé San Maximo Voglio dire Chi li ferma a questi Ma non ci interessa ragazzi Perché noi siamo qui Per schienere la storia E dobbiamo difendere Il nostro trofeo Quel campionato europeo Che forse Con un po' di fortuna Ci siamo riusciti Ad aggiudicare Oh Chiesa Chiesa bravo Ragazzi Questi con la difesa Noi stiamo No 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 Guarda 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 Noi stiamo con la difesa a tre A difendere contro tre Capite da soli Che non potrei Non può funzionare No Poi non devo essere io Che la passo la palla Oh pensate adesso Che torniamo Alla Lazio Non c'è più neanche Luis Alberto No Pogba E vabbè E vabbè però La difesa è orribilante Ragazzi dai Cinque minuti segna Pogba Che incredibilmente È in campo E noi in infermeria Cazzo in culo Non fa figli Ma fa male se lo pigli E qua direi che Guarda lì Cioè ragazzi Ma guarda Come si fa È vero che Facciamo una difesa Che nel singolo Non sarebbe manco male Io la vedo veramente Brutta oggi eh Io oggi la vedo Veramente brutta Guarda quello Tutto solo al centro Madre de dios Qua ci bombardano Sì ma i difensori Non possono giocare così Ragazzi Veramente Non seguete oh Oh namo Mimmo Sveglia Decipo minuto Ci hanno già Fatto 4-5 tiri Io marco un bappé Questa ragazzi Potrebbe essere la mia occasione La pennella Mamma mia Ma perché passo la palla Che io C'ho 50 di passaggio Oddio Non era manco malvagissimo Però forse è il caso De non passarla Dopo devo fare il mio Guarda mancini Che merda Oddio Toloi Mettici il piede No vabbè ragazzi Che te le metti Le mani in testa Bastoni Ma gli è vergognoso Guarda Vabbè là mancini Proprio uno scandalo D'uomo Va 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 Metti il piede Toloi capitano Ragazzi Se va a cioccare Ed è già 2-0 20 minuti Se fermeranno No che non si fermano Questi non si fermano Questi non si fermano E me sa che questi europei Ce li guardiamo a casa Andiamo bene Back to back così Io sinceramente Non credo che potevi far molto Ragazzi Sapete qual è la cosa bella Che dopo sta partita Ce ne abbiamo un'altra Con non mi ricordo chi E poi abbiamo il derby Bene Mi spettacolo Grande uomo No dai Basta 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 Ok Bravo Donnarumma Madonna santa Ragazzi Beh mo oggettivamente Non si può giocare Basta No 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 Sei no Sei al primo tempo Fermati ragazzi Devo chiedere aiuto Sinceramente Se la sfida era un bappé Contro spettacolo Direi che ci abbiamo già il vincitore Mamma mia ragazzi 5-0 Beh signori miei Questa Direi che Potremmo annoverarla Tra le più grandi scopole Basta che do il cambio Ragazzi Ovviamente È orribile Non ci voglio giocare Con questi pipponi Ce ne restiamo a casa Per me St'europeo Ce lo vediamo a casa Ma sicuro Ce lo vediamo a casa così Tre bastoni Ah io esco Mister Io me ne vado Dite che abbandono la nave Abbandono la nave Esce spettacolo Per Zagnolo Grande partita del mister Guarda il resto Ma vatti in 6-0 Ci ha narrato 20 viri L'hanno fatto Porca Io ho giocato 3 partite con l'Italia Abbiamo preso 6 5 E 3 gol 14 gol in 3 partite Mancini Ma forse Ti viene in mente Il caso di intervenire Assurdo ragazzi Assurdo Ci hanno devastato Guardate Ci manca una partita da sola Cazzo stiamo fuori Allora ragazzi Sconfitta nel derby Una grossa delusione Per i tifosi Giusto Metti a tacere le critiche Dichiari ai giornalisti Che hai dato il massimo E che il problema È di natura tattica Fai una promessa ai tifosi Sono delusi Prometti loro che vi rifarete Ma la prossima volta È il prossimo mondiale Mancini a casa Oppure sostieni i compagni Hai fiducia nella squadra No ragazzi Il problema è di natura tattica Faccio lo snitcher Non me ne importa niente Mancini del cavolo Ma vai a casa Porco due Ma no abbiamo proprio finito Quindi siamo stati eliminati Dagli europei So che dire ragazzi Veramente So accringiato a bestia Faccio pausa Me devo riprendere Non c'è modo per tornare indietro ragazzi Torniamo a noi Torniamo al campionato Perché guardate Non cazzeggiamo Perché ci abbiamo Adesso l'Empoli Napoli E Inter Due partite toste Però io questa Me la simulo Cioè o meglio Mi gioco solo i momenti clou E guardate però Come dobbiamo andare a giocare Ragazzi Allora Ierai Orribile Però Cataldi Vesino Melinkovic Luis Alberto Me lo sarei tenuto Comunque eccoci qua Siamo Allo stadio olimpico Gremito Per un Lazio Empoli È la partita Prima del derby Dobbiamo stare attenti Alle ammunizioni chirurgiche Ma soprattutto A non farci male Perché Dobbiamo giocare La partita più importante Penso che Simulandoci tutto Possiamo fare bene Dai Andiamo avanti ragazzi Non c'è molto da dire Se non che Il gioco ci matcha Con dei kit orribili Allora Lazio Eppoli Calcio di rigore Spettacolo Nello stesso stadio Dove C'è stata una partita D'anniglimento Tra Italia e Francia Parte Spett Nooo Me l'ha presa No L'avevo calciato benissimo Cazzo Al fantacalcio Questa è brutta Parisi Conto spettacolo In un altro universo Saranno allenatore E giocatore Sì però Se non Ora Venga vai te va Oh Stavo a chiudere Spettacolo Nooo Che hai fatto 1-0 Empoli Perde con l'Empoli Famo a basic Porco Disco Nooo Vabbè raga Ma non è possibile Ma possiamo perdere 1-0 con l'Empoli In casa Derby se fanno male Sto vicario di merda Mi ha parato rigore Sì Qualcuno dirà E' iniziata un po' male Mike E' iniziata male Però Non è tutto oro Quel che luccica Qui stiamo vedendo Un po' De immagini Direttamente dal Derby di Roma Probabilmente quello D'andata Dove altri non fanno Quanto pare La Roma Ma non è Difficile pensarlo Visto quello che ne è Della Lazio Che nell'ultima partita E' uscita sconfitta Dall'Empoli Ma attenzione Questa è una partita A sé E' una partita Che stravolge Gli equilibri E paradossalmente Arrivarci un pelo Da sfavoriti E' meglio Rispetto a giocarsela Da favoriti Questa è una cosa Che c'è solo a Roma Uno dei derby Secondo me però Più caldi in Europa Se non al mondo Sicuramente in Italia Ora Non so se voi Siete tifosi Di una o dell'altra squadra Perché in caso La vivrete malissimo Almeno io La vivo malissima E' l'unica partita Che sento Veramente tanto In generale E' sempre Una brutta partita E' una partita Che vive di nervi Che si gioca Più che in campo Si gioca con la testa Si gioca con il cuore Oggi però La Lazio Deve dimostrare La Lazio Che a quanto pare E' riuscita di nuovo A tenere Sergei Milinkovic-Savic Ma ha perso Luis Alberto Ha perso Giro Immobile Ha perso tanti giocatori Vediamo un po' come Tapsobah Kumbulla Guarda qua La Roma E' più o meno quella Che schiera tutti i suoi attaccanti Con Dybala E' il Gallo Belotti Luvumbo In panchina Mamma mia che paura ragazzi Sappiamo che Miss Spettacolo Sente particolarmente Questa partita E' un ragazzo di Roma E' un ragazzo della strada E' un ragazzo che ha sognato Ha vissuto questa partita Con i tifosi In curva allo stadio Oggi però E' un tifoso In campo Oggi deve dare Quel 110% in più Torna Provedelli In porta Meno male Sono contento Centrocampo muscolare E poi Felipe Anderson Vega E' spettacolo Abbiamo Danjuma E Zaccagni In panchina Oddio santo Aiutaci tu Occhio a Dybala E soprattutto Occhio a quelle che saranno Le prestazioni di spettacolo Visto che viene da Un trittico di partite Non benissimo Si parte dal pareggio All'ultimo secondo Con il Milan Dove sostanzialmente L'avamo ripresa Anzi l'avamo proprio ribaltata All'ultimo Ce la stavamo portando A casa E poi E' nata così Fallo proprio Dello stesso spettacolo Adesso vogliamo comandare Dai Sergio Dai Sergio Pellegrino Ma c'è Provedella Provedella è il grande Grande Bravo spettacolo Bravo spettacolo Guarda Vega Se l'Arza Bravo Vega Mi sa che parto ragazzi Mi sa che parto Su Carstor Via 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 Fino in fondo Spettacolo 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 Gostun Oddio è cascato Vai sotto la nord Spettacolo Vai sul terra Sotto i suoi tifosi Penso che se uno Fa un gol del genere Al derby Che fanno la statua Se vince ovviamente Sultano tutti Guarda che gli ho fatto ragazzi Sono andato dritto Sono andato dritto Se lo sciucciano E poi Uh col sinistro Lì è più difficile Pensarlo che farlo Questa gol Vedete ragazzi Datemi la palla Solo ragazzi Io sto contro Una difesa a 5 Lo lasciano fare Gliela lasciano Provare Gliela lasciano provare Ma quella è la sanzolla Guardalo Guardalo Come se la porta su Tic 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 Eh beh Questo ragazzi Sappiamo che la soluzione Di miss è spettacoloso Guarda come gira Guarda come gira Guarda come gira Allora era mezzo tentato Di tirare una saracca E poi Sì A esaltare Il suo idolo Quindicesimo 2 a 0 No No Ecco eh Eccoli eh Eccoli eh Eccoli eh Eccoli eh Brian Cristante Eccolo eh Sì Spettacolo Lo butta giù Si rialza il gallo Bellotti Poi tira una pisciata Di gallina Oggi non ci sono amici Oggi non conta il campanilismo Oggi conta solo portarsela a casa Eh spettacolo Comincia un po' Eeeh Occhio Occhio Fallo arvero Ah fuori gioco Manco fallo Sai ragazzi Che quasi quasi vale la pena Scalare al centrocampo Non dico pena stagione Era un po' quello che avevamo fatto Con Serra al Milan Eeeh La rovesciata Marchio di fabbrica Che Che Mannaggia Certo raga In nazionale C'è un mancini Che veramente Tatticamente è un disastro Con la Lazio C'è mo' Pipe Vai Pipe Fino in fondo Pipe Fino in fondo Pipe Eeeh Ah Signore Signore Eeeh Si scaldano gli animi Con Pellegrini Oh La tira a spettacolo Vedete tiro una saracca All'esterno Vediamo se ci prova Spettacolo Sìh Cacciotta Bravo Romagnonze Fanno prigionieri Guarda ieri che non ne pia una Guarda ieri che non ne pia una Guarda che sta succedendo lì No vabbè non entra questa Dai Senza questa spegnevo il gioco Spettacolo Dice vabbè dai Ci ho provato Col sinistro Che non è il suo piede Ce l'ha ancora sul dè In curva Appena fuori Ma tanto così eh Spettacolo 6 tiri Pellegrini 1 Però De naso Mi dissocio Mi dà un saluto A Lorenzo Grande Lory Aspetta ragazzi Per correre poco Vado pure abbastanza veloce Devo dire eh Per non essere un Fulmine Agardop Ma state fermo Ma che sta a fare Gioca a Bonito 0-2 all'intervallo Tanta roba Più frutto Non dico del caso Ma sicuramente Della giocata del campione Oh ragazzi Sì Roserge Dove dire Un giorno fa Stato loro C'hanno pure Costa Del porto No Questo è pure forte E con la mano Con la mano Oh Che me so Pappato Per questa L'ho mannata Per aria Bravo vive Oh Sarchei Dai Sergio Questa azione L'ha confezionata Vive Io posso di niente Sto giro Mi devo stare zitto Però l'assist Che lo fa Un sontuoso Spettacolo Guarda Guarda come lo vede Che si intrufola Dove è passata quella palla Scusate Dove passa quella palla No 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 Va bene Questo è un assist magico Ragazzi Guardate il potere Del spettacolo Oh no Guarda il potere Del spettacolo Questo è proprio Quando dici Passaggio Filtrante E questo è Filtrantissimo Finché lo fanno noi Va bene 0-3 ragazzi 0-3 Oh me la so persa Si me la ridà Con Bull A giocatore Oh con Bull L'ha ricreato Come nella realtà Tira Oh Fermi Fermi Fermateli Fermateli Ho segnato Vesino Roba di confusione Ragazzi Difficoltà estrema Ma più di così Non si può fare Oh guardali Guardali Erroraccio Vesino Al volo Non si sa che succede Spaverata del portiere Spaverata del portiere Rivediamolo Questo è un rigore al volo Con Bull Ah la tocca con Bull Lascia Anderson Entra Danjuma Proviamo Danjuma Vediamo un po' Come va sto Sto ragazzo Minchia ragazzi Questo è tipo Il sogno di ogni tifoso 4-0 al 66 Cioè non solo che hai vinto 4-0 Li hai distrutti Per tutta la partita Psicologicamente Ovviamente li hai ammazzati Pensa a quelli che sono andati allo stadio Vorelli Ho visto Danjum Ho visto Danjum Fammi vedere quanto sei bravo Oh Ma questo è un pazzo Fori Sergei Chi facciamo entrare Basic Cioè proprio gli evoliamo di Abbiamo vinto con Basic Ho superato Fino in fondo Costo costo Fino in fondo Fino in fondo No 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 Disrispetto Questo spettacolo non si fa Spettacolo non si fa Non si rubano le sultanze Tutti aspettavamo di Bala È arrivato di Bala Ma c'è la maglia della Lazio Ma come io l'ho incrociata Spettouf Quindi tripletta il derby Madonna ragazzi Penso che se succede una cosa del genere Mancano i miei sogni umidi Netta Zaccagna addirittura 5-0 È veramente troppo punitivo Secondo me Pure per la partita che è stata Da mo' oggettivamente Dispiace Invece a me dispiace Per niente Pensate prendere la palla Netta No signora 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 Giusto 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 Vabbè stiamo tranquilli ragazzi Che io le scivolate Non roviniamo una spettacolare serata Ragazzi potrei skipparla Ma non lo farò Mi devo godere ogni singolo secondo Di questa partita Nico Zales Eh beh Che non lo prendi un gol al 93 Signora come esulta Abram Come nella realtà 5-1 Sicuro che Abram È uno che lo farebbe Secondo me Considerando quello che fa in campo Però cavolo Il clean sheet Lo potevamo portare a casa Finisce qua Ci portiamo a casa Il derby 5-1 Una nostra tipiletta Non pensavo di essere così decisivo Al nostro primo derby Ma questo è il sogno di un ragazzo Se sei tifoso della Lazio Hai sognato questa giornata 3 gol e 2 assist Inoltre Cioè Giocatore sontoso Giocatore a cui si aggrappa Mister Sarri Ma soprattutto Lo dito Che sta così Considerando le prestazioni Considerando che il suo valore Continuerà a salire Peccato Per quello che è successo La nazionale Cioè ha fatto Un gol di potenza Totale Con tiro da lontano Si esulta Nello spogliatoio della Lazio Speriamo di non beccare Mancini nudo che entra Con Romagnoli che fa il pazzo Anche lui tifoso della Lazio Una cosa non gli dovevi fa fare Era il gol A loro Vabbè Noi ragazzi Secondo me ci portiamo a casa Non solo il pallone Ma anche il premio Il migliore in campo Parli con i giornalisti Dell'atmosfera speciale Che si respira all'interno Che sono molto felice Perché questa partita Significa molto per i tifosi Dai sono generoso Però adesso Testa a noi Perché queste belle prestazioni Ci stanno fruttando Due possibilità di sponsor Un servizio fotografico E una campagna Tutte e due ci daranno Un sacco di soldi E noi siamo portati A fare di nuovo Una scelta Cioè Quale deve essere Lo sponsor tecnico Di spettacolo Per questa stagione Sarà la Puma Sarà di nuovo la Nike Sarà l'Atidas Fatemelo sapere sotto nei commenti Perché sarà decisivo Per la prossima puntata Non c'è tempo Da perdere Perché siamo Di nuovo a Roma Per una sfida Che ha già il sapore D'Europa È Lazio Napoli È una sfida speciale Per mister Sarri Che ritrova la sua Napoli Mister che sta Costruendo una squadra Dalle macerie Di quella Che poteva essere Una buona Una iscrita squadra Si ritrova Si ritrova con gli uomini Contati 11 sono Ma il numero 14 Lì in attacco Che ha preso Il posto di giro immobile Sta facendo Il suo Sta dimostrando Di valere Quella maglia titolare Sta dimostrando Che l'investimento E l'investitura Soprattutto Era giusta E dopo le grandissime Prestazioni in serie B Con la maglia della spalla Sta facendo sognare La sua città Sta facendo sognare La sua Lazio Di cui è tifoso Però dall'altra parte C'è un nuovo Napoli Che con Henry Importa Non so chi sia Kim Gabriel Magajanesh Olivera Kufal Zeliski Zambo E Elmas A centocampo Bayeder Lì davanti C'è Orsolini Con la 10 Poi ci abbiamo Quarascheglia Che ho scoperto Che si dica Quarascheglia Sarà all'altezza del 14 Lo vedremo Lo zano dall'altra parte Non c'è più Così Man Ha signato Ha signato Ha signato Spettacolo qua ragazzi Ci si aggrappa a lui Dopo la tripletta Nel derby Clamoroso Si è parlato tanto di lui Sicuramente Qualcosa che Nessuno si dimenticherà Tanto facilmente Visto che Si vive dei ricordi Però si vuole uscire anche Dal provincialismo Ah Pallo Però Aspetta Tagliela Tagliela Puli Mamma mia Raga Felipe è lento Con i piedi Sì Serge No Serge Per muro Kim No 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 Lazio no Lazio Paglierai Puntiamo su DT E invece no Ricordate che con la urbe eterna La pizza variata No non era con la urbe Era col PSG La pizza variata D'insigne Che roba Lo zaino no Olivera Benna Iedda The Rat King Dai stai Romagnoli Stai stai Recupera la posizione Ma se incesto io Chi ci sta Ragazzi Danza il Napoli Nell'area di rigore Della Lazio Mi devi rompe il cazzo Ok vai Solo tre gol subiti Dal Napoli Nelle prime quattro partite Quindi sarà difficile Fargli gol Ma io ragazzi Ho l'asso nella manica Che ha la bomba da fuori Oh Bravo Spazza Non fanno prigionieri da lì Sì Fratomo Bravo Fratomo Aspetta aspetta No No Scusa Pipe Scusa Scusa Felipe Scusa Pipe No Ho sbagliato tutto Bravo Alex Bravo Sandrino Vai vai Guarda sono Ragazzi È tutta fascia È tutta fascia L'importante è che non sia TUTTO FASCIO No Scusate ragazzi Dai mi devo concentrare Sto a fa schifo Aspetta aspetta Vega Oh comunque Vega Ragazzi ha bisogno del sostegno Cioè quando arriva là Poi non sa più che fa Gli devi di Passa me la tira Fa qualcosa C'ha bisogno che l'aiuti Ma non è uno che Con un cervello pensante Dice oh Prendo delle decisioni Guarda Yerai Guarda Yerai Guarda che disastro Ma che Yerai è praticamente È il Maguire Spagnolo Ma ragazzi Io non riesco a trovar Sbocchi Ti importa Vedete Solo uno della Lazio 35 minuti Non è successo niente Ah ecco il gol Va la scheglia Oh lo zaino Sì lo zaino Va Eh Per noi siamo belli arcini Eh Devo dire Vai amore Mettiti a correre Sì Sì Ah Si giuccia Solo giuccia Se la porta sul sinistro Dai vive Il pipita Bravo Pipe Bravo Felipe Ora Isulta Pregando Dicendo una preghiera Ecco ho fatto tutto io Ragazzi Ma forse dovevo Tira più basso L'importante è segnare E segna proprio lui Felipe Anderson Io so dell'idea Che Felipe Anderson Con un'altra testa Sarebbe un giocatore Clamoroso Come spettacolo Che adesso Ci Uh Sì Sì Eh No Eh Però Devo fare serie Devo fare serie Simmi chi forte Gli renci arriva Come al solito Bravo Sì Simmi chi forte Simmi chi forte Ovvio Guardate un po' il minuto Primo tiro del Napoli Primo gol Sì ma guarda Guarda gli renci No no Scusa Scusa No ragazzi Scusate Che poi divento pazzo Io divento pazzo Queste cose Guarda l'attaccante Come lo guarda Dice Questo è proprio un coglione Guarda gli erai Guardate gli erai Oh gli ha dato una comitata Eh Oh gli ha dato una comitata Chi era Zelinski Guarda gli erai Tilta malamente Se la riprende Guarda Blocca Fa il blocco Su Romagnoli Che lo poteva chiudere Che giocatore pestifero Guarda Sei marcaro Romagnoli Lo fermo Guarda lo fermo Proprio due volte Che giocatore pestifero Perché no casale Questo è tare Questo è tare Signore E lo devi cacciare Lo devi cacciare Ci ha dato una comitata A gli erai E ha fatto bene 1 a 1 Mi sento di dire Che potevamo Fa un po' di più Però la partita è bloccata Cioè È un risultato Piuttosto giusto In realtà No Fermate lo zaino Fermate lo zaino Eh beh Ci sta ragazzi Tutto solo E mal accompagnato Ci segna La doppietta Il signor Lozano Una maglietta orribile ragazzi Il prossimo anno Devo assolutamente Giocare da pc Aspetta ragazzi Questa è la mia È la mia specialità No Ma accompagnato All'uscio Ma accompagnato All'uscio Oh ma Gaiana esce Zitto zitto Fa un outstanding game Provvedele il king Di questo gioco Aspettami Quella è la sua posizione L'avete visto E torna Agli antichi pasti Quello che vediamo a Ferrara Quello che si è già visto Nell'Emilia Romagna Lo vediamo anche nel Lazio Con la Lazio Guarda qua Si era sposta Ma Gaiana Esce un po' in ritardo Stavolta a 3000 all'ora Non può sbagliare Cioè oddio si Più facile che questa La mandi in curva Ma sto giro no La piazza è lì Il tiro a giro Quello che sarà Il marchio di fabbrica Un certo Matteo Serra Prima lo era Di inizio spettacolo Angiuma dentro Per fare i danni Oggi Felipe Anderson Ha fatto più danni Da grandine Però non lo diciamo Ad alta voce Chi erai Ah beh infatti Mi sembrava strano Che l'avesse presa Voto Chi è il 15 Casale Perché Casale A centrocampo Perché io me devo beccare Casale Nicolò Non so come stiamo messi Grazie Glitare Per la squadra No no ma veramente Grazie mille Ragazzi non è niente Di diverso Dalla realtà Toma bacis No me la sono allungata Pezzo da sticchio Al forno L'abbiamo preso L'abbiamo preso L'abbiamo preso L'abbiamo preso Che missile ha tirato questo 122 km Che si vale a prendere E niente ragazzi Sotto di nuovo Guarda che mi ha preso Per rì Ma va cacca Che partita abbiamo buttato No Mannaggia Ragazzi Hanno meritato Potarsi Ce la siamo giocati A pari fino all'ultimo Spettacolo Con le mani in testa Dice cavolo Siamo lì Un altro euro goal Che ha riavvicinato la Lazio Però oggettivamente Questa partita dimostra Che non siamo pronti Per giocare A altissimi livelli Non ci abbiamo la squadra Però proveremo Fino all'ultimo A entrare in Europa Molto verosimile Da sto punto di vista Cioè Emo sto disastro Allora ragazzi Ci attendo una stagione Prevalentemente di campionato Io immagino che nelle prossime puntate Andremo piuttosto veloci Perciò suggeritemi Quale sponsor tecnico Approciare Visto che abbiamo Sul tavolo Un sacco di offerte Magari vediamo un po' come va Siamo capocannonieri Con otto gol Di Bala e Belotti Ci inseguono In classifica siamo decimi Però vabbè Appena iniziato dai Il Genova c'ha solamente Due punti in più di noi Almeno in Europa League Ragazzi Però non siamo una squadra Proprio bilanciata Però è questo il divertimento Non per forza Dobbiamo subito vincere Sono contento Fatemi sapere che ne pensate Un saluto a tutti Alla prossima Ciao ragazzi Ciao